senti mi evitate vabbè dobbiamo capire qua invece per noi di me ci sono attenzione le tante di oggi sono vabbè 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 la bello bubba bubba dai daico che giusta ragazzi stai vicino dai come Pippo va 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 c'è pochi con go bello 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 e e ro Non ci sono fatti Non ci sono anche Non ci sono fatti Non ci sono fatti Non ci sono fatti Vai Marcos City A 3 A 4 6 5 5 6 6 6 9 10 10 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 18 19 19 19 21 22 22 19 19 20 20 21 22 23 24 25 25 25 26 27 28 30 30 30 30 30 30 30 30 32 11 30 31 30 32 32 33 34 34 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.